La petroliera è incagliata nella barriera Corallina e la chiazza nera nelle acque cristalline che continua ad espandersi. La Repubblica di Maurizius ha dichiarato lo stato d'emergenza ambientale. Il 25 luglio scorso un cargo giapponese, battente bandiera panamense, si è arenato all'altezza della turistica Puan Desni nel sud-est. L'equipaggio è stato subito messo in salvo. Pravin Jugnot ha chiesto aiuto alla Francia e il presidente Emmanuel Macron ha subito assicurato il sostegno. Il premier ha detto che si appellerà anche alle Nazioni Unite e ad altri paesi, perché l'isola di Maurizius non è in grado di gestire da sola questa catastrofe. Secondo la Nagashiki Shipping, una delle due compagnie proprietarie della nave, il maltempo avrebbe causato danni alla petroliera, che trasportava 4.000 tonnellate di carburante. Proprio le condizioni meteorologiche, in peggioramento in queste ore, stanno ostacolando ogni intervento.